Il termo impedisce alla Juve Stabia il sorpasso in classifica ma rimanda ancora una volta all'appuntamento con la vittoria, soprattutto in trasferta. Almenti finisce 1-1 con gol tutti nella ripresa. Paci torna all'antico far entrare Vitturini e Piacentini dopo aver scontato la giornata di squalifica e conferma il 4-2-3-1 con Pinzauti centravanti ed Ilari, Bombaggi e Costa Ferreira alle sue spalle. La Juve Stabia colpita da un caso di Covid alla vigilia si affida a Borrelli e Ripa in avanti con Fantacci libero di muoversi nei pressi. Al terzo Caldore ha una buona occasione in aria ma spara alto. Dall'altra parte il Teramo gioca complessivamente un buon primo quarto d'ora salvo poi con il passare dei minuti lasciare possesso la formazione di Padalino. Al quinto ci prova Arrigoni dalla distanza con tentativo deviato e successiva apprezzione nell'area di casa dagli sviluppi dell'angolo. Ripa poco dopo tenta la capucciata che finisce alta. Al nono è ancora Arrigoni a provarci da lontano sulla scia forse del gol decisivo della gara di andata. Al dodicesimo l'azione migliore del Teramo porta anche all'occasione più importante. Ilari serve Bombaggi che con il Mancino impegna Russo in allungo. A quarto d'ora il diavolo dialoga nello stretto e Costa Ferreira fa partire dal limite un tiro che si spegne fuori non di molto. Da qui la formazione di Paci lascia a mano a mano la fase di possesso e pensa a chiudere i varchi ai padroni di casa. Al ventissimo caldore ispira Borrelli che impegna centralmente Lewandowski. L'attaccante di proprietà del Pescara ha prima di rientrare negli spogliatoi un paio di opportunità neutralizzate in ogni caso da Lewandowski e annullate anche da posizioni di fuorigioco. Riprese subito viva. Scacabarazzi raccoglie un lancio dalla sinistra e si ritrova tutto solo davanti a Lewandowski che è bravo a chiudergli ogni possibilità di tiro. Qualche istante dopo è Bombaggi a provarci dal limite con palla che termina al lato di pochissimo. La Juve Stabia passa subito dopo. La difesa del Teramo non è perfetta in impostazione. Ripa riconquista palla e Scacabarazzi stampa il suo tentativo sulla traversa. Borrelli sulla ribattuta raccoglie la sfera e deposita in rete il vantaggio delle vespe. All'undicesimo però il diavolo pareggia i conti. Bombaggi combatte su un pallone contro due avversari. La difesa di casa non riesce a liberare bene e Costa Ferreira stampa il suo tiro alle spalle di Russo per quello che sarà l'1-1 finale. Il Teramo dopo il pari si fa preferire rispetto ad una Juve Stabia apparsa mano a mano stanca poiché anche le prese con nove indisponibili. Al diciannovesimo Esposito sfiora l'autogol per impedire a Pizzauti di arrivare sul pallone. Al venticinquesimo Berardocco risponde ed ispira in mezzo per Borrelli che di un soffio non trova l'impatto con il pallone a centro aria. Paci manda in campo Di Francesco e Chiere Mateng e proprio dal primo parte l'azione che mette Pizzauti nelle condizioni di colpiri di testa non trovando però la porta. Finisce così con un punto per parte ed un Teramo che adesso guarda al ritorno al Bonolis di domenica prossima per ospitare la Paganese.